Sgominata negli Stati Uniti, un'organizzazione impegnata in una serie di cyber rapine internazionali, rubati in 27 paesi circa 45 milioni di dollari, pari a oltre 34 milioni di euro. Sette gli arresti. Un'ottava persona, considerata la mente della gang, è stata uccisa nella Repubblica Dominicana in aprile. I prelievi venivano effettuati con carte di credito clonate emesse da due banche, la Bank Mascat in Oman e la Bank of Ras al-Khaimah di Abu Dhabi. Grazie ai dati ottenuti, gli hacker avevano eliminato ogni limite di prelievo fondi. Una frode di proporzioni colossali, cominciata a dicembre, che il 19 febbraio, in sole 10 ore a New York, la gang ha ritirato 2 milioni e 400 mila dollari, più di 1 milione e 800 mila euro.